Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per venerdì 18 novembre. Nell'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che questa sarà interessata da una perturbazione nordatlantica che apporterà fenomeni di stabilità diffusa su gran parte del territorio, ad eccezione delle regioni del Medio e Basso Adriatico dove avremo tempo più stabile. La ventilazione risulterà proveniente dai quadranti meridionali e i mari saranno generalmente mossi, mentre per quanto riguarda l'aspetto termico le temperature risulteranno in generale aumento. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di cielo poco nuvoloso e sereno su gran parte del territorio, tuttavia con il passare delle ore, in particolar modo dal pomeriggio e dalla sera, le condizioni meteorologiche vedranno un peggioramento, con piogge e rovesci che interesseranno in particolar modo il versante occidentale della nostra regione, mentre lungo la fascia costiera e collinare avremo tempo più stabile. Tuttavia nel corso della sera non escludiamo che deboli piogge possano sconfinare lungo il versante costiero. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti.